e benvenuti ragazzi qui c'è alisardo non so perchè si è velocizzato ma oggi cercheremo kirbis divento u bensì nightmare allora oggi c'è un giocamento un po' diverso al solito anche questo vabbè banana no vabbè allora come sapete ho caricato le news nuove del canale eccetera 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 non mi si uccide ok ho caricato le news del canale per avvisarvi che vabbè da quel video comunque quello era un video di segnalazione per dire che ho ricominciato a a rivideo e quindi presto ecco qua vabbè quindi ehm da questo da quel video in poi riprenderò caricare i video allora ragazzi vabbè niente da dire questo è il primo livello abbastanza facile questa serie intenzione di finirla perchè è abbastanza bello questo gioco e quindi questo gioco non l'ho mai provato cioè ho provato sui primi livelli l'ho visto su youtube e ho creduto che fosse una buona idea a farlo però è un nandai 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 spese si può come così anche se lo giocava è vecchino e vecchino però come mi sembra un nandai per te non mi non mi provo cioè perchè non so non so non so non so non so non so quindi poi c'è un matone ai giochi di kirby è abbastanza difficile assorbire le vendita varie avevo già provato qualche volta a fare allora una volta ecco ma come si riesce a livello così allora avevo già ok avevo già provato a fare sto let's play vabbè dai ciao ciao sarò be vabbè no vabbè ragazzi non così ah mi sono sbagliato vabbè 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 ragazzi sono costretto a farlo eh vabbè questo doveva essere un extra però lo facciamo però lo facciamo adesso perché ehm perché sono nulla nulla bella ragione vabbè ehm ehm come dice questo doveva essere un extra ma lo faccio diventare ma cioè ecco vabbè dai ah ah penso questo è un nuovo gioco per l'uola non si può fare non si può fare gli altri li e tanti li che li farò non si può fare adesso la fine degli let's play senti l'uola ok tu vola lontano dalla mia vista sto fu dove deve essere arrostito tu muori essere ehm no questo lo sta sentendo invece tu non fare cose di di questo da maledetto tu muori tu vola lontano dalla mia vista ecco tu non mi beccare sto facendo l'elenco di nemici che mi devono e mi devono beccare vabbè allora ehm se vai avanti mi fa un piacere le bombe ehm ho sbagliato vabbè oh mamma perchè mi sta poi già per fruttare e con questa no 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 ti vuoi no se lo prendo crash ha il suo potere crash non so vero cosa serva no cioè so cosa serve però a eliminare stilisti nonostante 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 ehm se io ho sbagliato appunto che io sbaglio i pulsanti è una cosa piuttosto fastidiosa ok tu vieni qua ok spark è una le poteri che mi facciano di più quindi prendiamoci acappaggiamoci questo andiamo che ballo ok vai ok ok ma allora ora ok 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 questo l' eliminato che mi frega sempre allora ti vado a vedere mi эфф non mi preoccupato non mi sa perchè mai ci fanno in rizzo ora primo primo no benissimo ho preso un uomo non so i soliti allora come internazio devo dire che se non è abbastanza per essere un uomo non ho mai fatto aiuto non fa l'anunque sanzo faremo sanzo sussurri mutavo non lo so se non è colpito ma come si riuscita ecco qua no no almeno facciamo così conoscenza medicina ma si non potenzialmente utilizzare tumori ehm bimba questo è un pulito non il minato il minato su quando riesco a bloccarlo lo frego io piuttosto allora andiamo a mangiare questo qua ah si lo c'è beh con tutte le mangiare più semplice allora più sul centro anche questo ok non so se posso potenziali più temi non credo proprio comunque questo non sarà l'unico le spiegeliche quindi c'è però non porterò avanti tantissimo allora questo gran che deve morire e tu ok 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 vabbè qua con gli sprucci d'acqua di ogni mila di pesci si sta disperando la maledetta come monta che faccio mi frega visto non solo arriva verso mio nasa su ss fai poi parola un e con non no 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 non 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 quello l'amore io penso che non vieni qua ecco qua prima facciamo una pausa ecco tu su su un'altra espressione terrestre vabbè tutto sopra e tu non ci provare i distributori di snack dei solutori sono stupiti non è un distributore di snack e che in questa base deve essere tutto così alieno non è un distributore di snack inserisci la moneta della tessura ok arrivo primo no secondo secondo 2 la mercio ho sbagliato ok libero questo è l'ultimo livello prima del boss che non è neanche niente difficile devo dire vai 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 prima che non sto dicendo ragazzi la fortuna proprio mia allora quello che me lo prendo non so se l'ho fatto no no la lancia non la perdo la lancia non la perdo ok tagliamo sopra e battiamo già i mini boss della zona ok si batte così ecco un po' fantastico allora facciamo così buono mi serve di potere ok freeze è molto bello il tipo di piaccio non so cosa facciamo ok facciamo così eliminiamo anche questo quindi se si elimina è meglio ecco è bloccato no allora la proteina non so bene se c'è una proteina è una proteina che non sapete sia vabbè non so si fa non so non so non so posto ah no questo è il boss no 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 non so stella no no non serviva così così no 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 ora il boss allora c'è ancora una vita non so non so bene se rimango con una vita perché non lo so si rimango con una vita no assurdo eh che mi si fa ad eliminare senza potenziamento solo ah è meglio oh eh si vabbè piuttosto dai c'avevo 5 video non c'avevo manco un potenziamento dai hm perlomeno avete qualche roba per i potenziamenti chiedere per anche per non asia non l'annuncia non c'è non abbiamo non non so non so, muori però dai, non ti faccio neanche tirare le mele sotto, muori ecco che è l'ultimo pezzo che non so se sia del nostro barca immagina che serva per impressionare la terra dell'incubi o qualcosa così allora mi ricordo che boss dell'ice cream mi ha fatto sclerare in modo particolare quindi aspettatevi, nella prossima parte vi lascio con Kirby acquatico però può sempre tenere spagate che figo vabbè ci vediamo nel prossimo video di Kirby Nightmare in Dreamland e ciao a tutti